Per quasi 40 anni che la Devi ha lavorato per un elemosio nel villaggio dove viveva svuotando a mani nude i gabinetti delle famiglie e delle caste superiori. Negli ultimi due anni la sua vita ha preso una svolta inattesa e improvvisa. Sta imparando a leggere, a scrivere e ad aprire il suo primo conto in banca. Devi è una delle 21 donne del villaggio di Nekpur, nell'India settentrionale, aiutate dall'organizzazione umanitaria, la Sulab International, a sfuggire dalla disperata situazione in cui si è ravitata la loro esistenza, fornendo loro alloggio e un'educazione primaria. L'organizzazione è nata due anni fa, quando il governo di Delhi ha bandito la costruzione di latrine senza acqua corrente, che dovevano essere svuotate a mano con l'obiettivo di porre fine all'impiego di spazzini costretti a quell'umiliante funzione. Sulab International ha messo a disposizione delle comunità nuovi e moderni gabinetti, organizzato un centro dove le donne spazzino di una volta possono imparare a mettere a frutto le proprie vocazioni, come cucire o realizzare detergenti e disinfettanti. Devi, ultra sessantenne, è una delle ospiti più anziani e della madre di tre figli e quattro figlie. Queste donne, spiega Sumar Chahardi, Sulab International, in cambio del loro lavoro ricevevano cibo, vestiti e qualche spicciolo. Ora guadagnano 3.000 rupi al mese e soprattutto la loro dignità.